Sono convinto che i prossimi anni per Roma e per l'Italia saranno fondamentali, giubileo, Olimpiadi Invernali, Expo 2030, sarò il primo tifoso di Expo 2030 che possa portare a Roma i benefici che ha portato a Milano, quindi diciamo che stiamo correndo giorni e notte per recuperare su alcuni cantieri, non questo ma in altre situazioni, dei ritardi, siamo assolutamente fiduciosi e soddisfatti.